Come diventare un investitore immobiliare di successo? Indipendentemente dal fatto che tu sia un aspirante investitore immobiliare o un investitore di professione, in questo video ti parlerò di come poter diventare un investitore immobiliare di successo. Ciao, sono Giuseppe Gatti e da oltre 20 anni mi occupo di immobiliare. Ho iniziato la mia attività facendo gestione di proprietà di famiglia e di amici di famiglia. Poi con il tempo ho iniziato a sentire il desiderio di fare qualcosa in più in questo settore, quindi ho iniziato a cercare informazioni. A quel tempo non c'erano ovviamente informazioni in merito al mondo degli investimenti immobiliari e quindi ho iniziato ad attingere alle informazioni dagli Stati Uniti. Lì si parlava di flipping e da lì ho preso gli spunti per fare la mia prima operazione in un quartiere di Torino che si chiama San Salvario, dove ho fatto un cambio di destinazione d'uso, ho trasformato un magazzino in un appartamento e da lì è nata la mia attività di investitore immobiliare. Nel corso degli anni ho avuto il piacere di fare molte operazioni immobiliari di diverso tipo, non solo cambi di destinazione d'uso ma anche acquisti in asta, acquisti tramite trattative extra giudiziali a saldo stralcio, frazionamenti, operazioni di trading immobiliare, insomma ho avuto il piacere di fare molte attività in questo settore. Però comunque c'era una situazione che non riuscivo a risolvere, ossia mi sentivo solo nel fare questa attività. Avevo bisogno di condividere e di conoscere come gli altri operavano nel settore. Ovviamente c'erano già molti altri investitori immobiliari, però a quel tempo nessuno di loro condivideva informazioni. Dopo essermi chiesto molte volte come poter risolvere questa problematica, nel 2016 finalmente creo un nuovo progetto. Costituisco una community, la prima community in Italia dedicata al mondo degli investimenti immobiliari. A quel tempo eravamo soltanto otto persone, ma piano piano siamo cresciuti sempre di più. Sino ad oggi che siamo centinaia di investitori immobiliari all'interno di Specchio Dinamica. Entrando a far parte della community avrai modo di confrontarti con altri addetti ai lavori, quindi con altre persone che fanno il tuo stesso mestiere, che hanno fatto magari già gli errori che stai per fare tu, con i quali ti puoi confrontare, ma non ti potrai confrontare soltanto con investitori immobiliari. All'interno ci sono anche dei professionisti, professionisti come delegati alla vendita, curatori fallimentari, notai, commercialisti, geometri, architetti e così via. Ci sono un sacco di figure professionali che ti possono dare supporto e aiuto nella tua attività di investitore immobiliare. Prova ad immaginare il grande vantaggio che puoi ottenere entrando all'interno di un gruppo come questo, un gruppo composto esclusivamente da persone che operano nel settore immobiliare, persone che possono condividere con te tecniche, strategie, errori da evitare. Per entrare all'interno della community abbiamo preparato tre piani, tre piani che raccontano un po' le fasi del volo, quindi il primo si chiama decollo. Decollo ti permette di iniziare l'attività e avere tutte le informazioni per poter gestire al meglio l'investimento immobiliare. Il secondo piano si chiama volo ed è quello più ricco, dove si possono ottenere tutte le informazioni che abbiamo all'interno, per arrivare fino ad allunaggio. Allunaggio è il percorso all'interno del quale, oltre alla community si può avere l'assistenza diretta e specifica dei vari professionisti collegati alla nostra realtà. Per avere maggiori dettagli su questa grande opportunità, clicca sul link, visita la pagina e ti aspetto all'interno di Specchio Dinamica. Grazie a tutti! Grazie a tutti!